E' tutto pronto per l'edizione 2015 della Meeting di Rimini. Il tema del primo incontro sarà Le religioni sono parte della soluzione, non il problema. Ne parleranno esponenti del mondo cristiano, musulmano ed ebraico. Un cattolico, un musulmano ed un ebreo insieme a testimoniare che le religioni sono per l'edificazione dell'umano e non per la sua distruzione. Il Meeting 2015 di Rimini verrà inaugurato il 20 agosto con un dialogo tra il cardinale Jean-Louis Touran, presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, Azzedin Gaci, rettore della Moschea Ottoman a Lione e Aïm Corsia, gran rabbino di Francia. Tema dell'incontro Le religioni sono parte della soluzione, non il problema. Religione vuol dire relazione, relazione dell'essere umano, dell'uomo con Dio, ha sottolineato il cardinale Touran in una recente intervista per presentare l'incontro. Tutto questo esige una giusta relazione con il creato e i veri adoratori di Dio sanno di essere custodi, gli uni degli altri. Per questo le religioni sono parte della soluzione e non il problema, perché facciamo parte di un'unica famiglia umana ed è questo che dobbiamo ricordare. Azzedin Gaci, riferisce l'ufficio stampa del meeting, è uno dei quattro imam francesi che accompagnati proprio dal cardinale Touran sono stati ricevuti da Papa Francesco il 7 gennaio scorso, giorno dell'attentato a Charlie Hebdo. Anche il gran rabbino Ahim Corsia, a capo di una delle più grandi e difficili realtà ebraiche europee, è impegnato in un dialogo continuo e su più tematiche con le altre confessioni religiose. Arrivata pochi giorni fa, anche la conferma che il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, invierà un videomessaggio ufficiale che sarà proiettato nell'incontro inaugurale della manifestazione. Tra gli altri numerosi incontri di rilevo internazionale, quello con Rulagani, il 21 agosto la first lady afghana per la prima volta in Italia al meeting. Ripartire dal Mediterraneo, un orizzonte per la politica internazionale, è poi il tema dell'incontro di lunedì 24 agosto, che vedrà dialogare il ministro degli affari esteri italiani, Paolo Gentiloni, e il suo omologo tunisino, Tayeb Bakushe.